Salve a tutti, in questo video vediamo come prendere tutte le stelle nel mondo 5-3. Io seleziono Toad perché se vogliamo il timbro dobbiamo per forza avere lui. E vediamo infatti anche come prendere il timbro. Allora, la prima stella è subito qua a sinistra, bisogna schiacciare su questa parte del pavimento. Ed ecco la prima stella. Poi se volete il timbro portate Toad, i Toad, qua sul bottone, ma anche se ce n'è uno è uguale. E abbiamo preso il timbro. Ora, sono con Mario. Per prendere le altre due stelle dobbiamo arrivare a 4 personaggi, quindi non dobbiamo farcene uccidere manco uno. Andiamo qua a sinistra sul 4, saliamo e troviamo entrambe le stelle da prendere. Quindi prendiamo questa, poi cadiamo qua e abbiamo preso anche questa, la terza. A questo punto possiamo procedere al completamento del livello che è qui praticamente. È tutto in una stanza. Ed ecco fatto. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.